ciao a tutti i nesini siamo qui in un nuovo video oggi è un nuovo video di blind bags spacchettamento e sono le nuove santoro gorgeous è uscita una nuova serie e allora ho mandato il mio ragazzo a prenderle me la regalate lui quindi sono super contenta e lo sapete fanno delle figure stupende e appunto non potevo non prenderle perché veramente sono troppo 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 carine piacciono addirittura a mia madre quindi se piacciono a lei sono veramente carine allora questa è la terza serie appunto le altre le ho aperte già sul canale quindi le trovate sul canale e ovviamente chi non conosce questa marca si chiama santoro london gorgeous e sono delle bamboline appunto senza bocca molto molto carine fa un po di tutto questa linea dalle bambole più grandi stoffa a cartoleria borse varie cose insomma c'è una figure e dice che a quanto ho capito sono ognuna per i vari mesi dell'anno eccole qua allora ora non so quale associata a quale mese la mia sarebbe quella di ottobre se andiamo per compleanni però sono tutte molto carine guardate carina questa qua con a forma di anguria cioè col vestito ad anguria poi c'è la fatina questa qua sarà il coniglio pasquale questa è marittima quindi estiva e questa con le mele molto carine tutte tutte belle anche questa capelli rosa molto carina allora il prezzo onestamente non lo so perché appunto me la comprate lui da un'occhiata se lo trovo e ve lo dico allora eccolo è 3 euro e 50 come immaginavo e stanno insieme a un magazine che però io non ho allora andiamo ad aprirle appunto ne ho 3 speriamo di non trovare doppi comunque vediamo allora oh che carina che cos'è ma questa è quella natalizia che neanche l'avevo queste queste quella natalizia insomma allora vediamo qua dentro c'è questa card a questa di novembre ok lei di novembre sembrava più natalizia visto che il vestito sembra tutto rosso e verde insomma comunque questa è di novembre e qua dietro ci sarà la checklist eccole qua allora vediamo un po allora eccole qua insomma ognuna ha il suo nome non c'è il mese a cui sono associate però appunto hanno vari nomi e ovviamente potete ritagliarle utilizzarle nei vostri scrapbooking o altro e sono della di agostini allora sono anche profumate quindi ora la apro e vediamo com'è allora eccola qui è veramente fantastica veramente adorabile è fatta così alle braccia qua dietro la schiena e è attaccata alla base l'unica pecca infatti che era delle serie scorse che cadevano spesso dalla base questa invece a quanto ho capito sono attaccate quindi non non cadranno insomma l'odore da qua credo sia tipo alla ciliegia o qualcosa del genere però non mi sa di ciliegia mi sa di tipo pigna no un po boscoso come odore non lo so poi ditemelo anche voi se l'avete trovata come mi sembra comunque lei è adorabile una di queste sicuramente la terrò sulla scrivania sono troppo carine allora vediamo quest'altra una diversa allora vediamo un po chi è oh questa qua è dicembre infatti è proprio natalizia cioè sta dentro la sfera di neve non so quale sia il suo odore eccola qua su allora quindi se novembre è lei ottobre dovrebbe essere lei carina spero di trovarla però sono tutte belle allora vado a tirarla fuori eccola qua adorabile anche lei lei ha capelli un po più sul marrone simili ai miei un po più chiari insomma è carinissima con questo cappellino un po la francese la mantellina la sciarpa un cuore qui è proprio proprio carina e ha un cuore color panna adesso vado a sentire l'odore allora no questo odore non ve lo so proprio descrivere non ho la più pallida idea di che cosa sappia ditemelo nei commenti se se l'avete trovata e di cosa sa la vostra io non ne ho proprio idea comunque molto carina anche lei andiamo all'ultima e vediamo chi trovo sì quella con l'anguria che carina piaceva tanto eccola qua lei spero sappia di anguria a questo punto o di limone non lo so comunque carina lei è giugno andiamo a vedere allora eccola qua è veramente veramente carina appunto ha tutto il vestito d'anguria la borsa invece è un limone ed ha un'angurietta qua per terra insomma queste scarpe andavano tantissimissimo quando ero piccola ne volevo un paio anch'io ma alla fine non le ho mai prese comunque adorabile e anche due fermacapelli tipo ciliegie pure questi andavano un po quando ero piccola veramente carina allora vado a sentire di che cosa sa ma comunque più o meno mi sembra che siano simili loro due gli odori non so se hanno perso un po del loro odore nella busta comunque non sa di anguria un pochino dolciastro ma proprio leggermente fatemi sapere se anche le vostre profumano poco oppure no questa un pochino più sulla cannella diciamo ma queste due più o meno hanno lo stesso odore mi sembra comunque molto molto carine le adoro sono tutte molto carine e fatemi sapere qual è la vostra preferita tra queste tra l'altro fanno la bandiera italiana comunque molto belle io non lo so se ho una preferita devo dire che questa qua piace molto però sono tutte molto molto carine non saprei proprio decidere quindi fatemi sapere nei commenti quale vi piace di più e quali avete trovato anche voi se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollicino in su iscrivetevi al canale restate sintonizzati per nuovi video e ci vediamo alla prossima un bacione ciao ciao ciao